Il capogruppo del PDL Luigi Esposito si è demesso sbattendo la porta in malo modo, accusando il sindaco di non mettere al corrente il partito che più di tutti l'ha portato a governare e che ha un asse preferenziale con un partito. Il riferimento è chiaro all'Udc? Io credo che innanzitutto va chiarito in un aspetto. Comprendo la difficoltà del capogruppo Esposito perché fare il capogruppo di sette consiglieri in un momento difficile come siamo adesso a quarto, come da quando siamo iniziati, non è facile. E' giovanotto e sicuramente sarà stato preso un po' dall'ansia della gioventù, dall'inesperienza. Io mi auguro che lui ci ripensi su questa questione e ritrovi la serenità perché questa è un'amministrazione, la maggioranza di persone verbene. Chiaramente in momenti di nervosismo, di rabbia si può fare qualche errore. Io mi auguro che bisogna prendere spunto dalle cose che diceva Esposito sulla lettera, ne faremo tesoro un po' con tutte le forze politiche, lo consideriamo per il momento un monitor ad essere migliori. Però credo che come lui abbia fatto questo appello, questa lettera, deve partire anche da lui il senso di responsabilità. Lo invito a ritirare le dimissioni e riaprire una discussione forte, seria, serena affinché questa amministrazione si rilanci. Gli errori li facciamo tutti e non credo che lui sia immune.